Il 9 settembre Il 9 settembre 2019 un militare della Guardia Rivoluzionaria Islamica Iraniana gira un filmato, in piena notte, dove si vede la contraerea che tenta di abbattere quello che loro pensano sia un drone americano. Ma c'è un piccolo particolare che ai Pasdaran sfugge. Quello non è un drone. Un drone militare solitamente è fatto per non essere individuato, mentre questo oggetto è illuminato di una luce molto intensa quasi a volersi far notare appositamente. Inoltre come vedrete dal filmato sembra giocare con i proiettili che gli vengono lanciati contro da diverse postazioni incrociate. Ogni ulteriore commento è semplicemente inutile. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!